Percorrere l'Italia a piedi è un'esperienza che auguro a tutti perché dà la possibilità di riallacciare i fili col territorio quindi di stabilire delle relazioni col territorio che sono estremamente importanti. L'Unia 7000 è un progetto che unisce i mezzi pubblici al sentiero Italia-Cai. Vuole dimostrare come sia possibile davvero raggiungere un sentiero utilizzando autobus e treni, vivere un'esperienza di 1, 2, 3, 10 giorni di cammino, prendere di nuovo un autobus, un treno e tornare a casa. Il sentiero Italia è questo lungo sentiero di 7000 e più chilometri che abbraccia tutta l'Italia attraversando le Alpi, la catena appenninica e passando anche all'interno delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Il bello di questo sentiero è che non si ferma a percorrere dei sentieri in quota ma scende nei paesi, incontra le persone, incontra le culture, attraversa le valli e permette di vivere davvero al 100% l'Italia.